Questo governo lascia fare i fascisti ed è una priorità fermarlo. Ci troviamo a Firenze in piazza Santissima Annunziata e qui che si sono riunite persone riconducibili a partiti politici, sigle sindacali, gruppi anche di estrema sinistra, tutti insieme per ribadire il pericolo fascista che arriverebbe secondo loro anche dal governo Meloni. Una nuova resistenza, è chiaro che l'esperienza antifascista è stata un'esperienza armata. Loro sono i collettivi di estrema sinistra. Mentre a Firenze prosegue il corteo Milano succede anche questo, gli anarchici più estremi hanno affisso in un liceo della città, questo striscione. Meloni e Valditara a testa in giù. Questo secondo me è una battuta. Una battuta? È una minaccia? Ma sì! No! Fanno bene a dirlo. Io ce la terrei un po' in piazza Loretta a testa in giù. Insieme a Salvini, tutti e due a Ciondolone in piazza Loretta una mezz'oretta. Oggi a un liceo di Milano è uscito uno striscione con Meloni a testa in giù. Lei condanna tutto questo? Ciao a tutti! Anche nei giorni successivi alla manifestazione, molti esponenti della galassia di sinistra rilanciano il pericolo fascista dentro le istituzioni. Sul fatto che ci stiano elementi di fascismo nel partito di Fratelli d'Italia mi pare che non ci sia dubbio. Questo non vuol dire che sia un partito fascista to cure. Un po' però lo sta dicendo. La biografia della Meloni, amica al fascismo, non la Meloni, ha preso le distanze dal nazismo, dal razzismo, ma non ha mai preso le distanze dal fascismo. È uscito uno striscione con Meloni e piante dosi a testa in giù. Penso che sia una cosa pessima, diverso è uno striscione, diverso è pestare dei ragazzi a terra. E dalle parole si passa ai fatti, alla violenza. A Roma i collettivi di sinistra hanno preso di mira alcune organizzazioni giovanili di destra con atti vandalici. Ora è stata ripulita tutto, qua era stata cementata. Da parte di chi è stato pubblicato questo video? Da parte dei collettivi di sinistra che hanno fatto questa azione rivendicandola. Le aggressioni e le intimidazioni per noi sono la quotidianità. Ci sono determinate scuole che storicamente appartengono alla galassia di sinistra, dove ogni volta che si fa un'attività politica si rischiano aggressioni. Allora c'è spesso una evocazione, va a ritmi alterni, per la verità non è che è continua, del pericolo fascista in Italia, ma c'è anche il fatto che spesso lo stesso risalto non viene dato alle violenze che vengono compiute contro i ragazzi di destra. E allora per me fanno schifo tutte e due, l'une e le altre. Però tutte e due. E di questo ne parliamo con Massimo De Manzoni che è ancora con noi, Ettore Liccheri, Movimento 5 Stelle, buonasera. Buonasera. La collega Valentina Petrini, buonasera Valentina. E il collega, ma politico di lungo corso, con questo non voglio dargli il titolo di anziano, ma che fa politica non da qualche mese, Francesco Storace. Buonasera Paolo. E vorrei partire proprio da lui per sentire, siccome Storace la destra la conosce bene, ha una storia all'interno della destra e quindi conosce bene la sua evoluzione in questi anni, ha visto tutto il mutare graduale della destra, insomma sono cose che sa. Allora, che impressione ti fa Francesco quello che sta succedendo, cioè le accuse di una possibilità di ritorno del fascismo in Italia? Io vedo un ritorno della violenza politica in Italia, non del fascismo. Il fascismo è nato 100 anni fa e 80 anni fa è finito. Qui abbiamo altro, qui abbiamo autentici delinquenti politici che sono ancora in circolazione. Guardate, a me non piace mai drammatizzare, però quando vedo la manifestazione di Firenze, vedo slogan, urla che pensavo appartenessero al tempo passato, quando si diceva che uccidere un fascista non è reato. In quella manifestazione è stato detto di nuovo. E il fatto che si continuino a dire certe cose è veramente grave. Io credo che ci sia un pericoloso indulgere a certa violenza, perché negli stessi giorni partivano le notifiche di atti giudiziari contro estremisti di sinistra che avevano aggredito a Bologna, giovani di destra, però di questo se ne è parlato pochissimo sui giornali, sui media. E qui vorrei che ci fosse un po' più di capacità di ragionamento. Tutte e due le parti, e qui hai ragione del debito, sbagliato tutte e due le parti, abbiamo vissuto anni di piombo con i morti per le strade. Ma io non ci voglio ritornare a quell'epoca. Dicevo di Firenze dell'aggressione lì al liceo, no? Quella è stata una rissa. Arrivano dei giovani, danno dei volantini non graditi ad altri giovani, quelli li aggrediscono, quegli altri si difendono, ed è stato montato un caso incredibile. Quando mi riferisco invece all'episodio di Bologna, ma io l'ho preso alle spalle e gliel'hanno dato in santa ragione. Allora non c'è da fare pittimismo, c'è da dire semplicemente la verità. Ecco, noi vediamo questa parte, Poi è stato mandato in onda un video integrale di quello che è successo a Firenze e si vede quello che è successo effettivamente. Aggressioni a tutte le parti. Andiamo a chiarissimo ragionamento. Andiamo a Bologna con Sara Scorpati. Sara, con chi sei? Buonasera Paolo, io sono qui con alcuni rappresentanti dei giovani comunisti. Partiamo subito da Francesca. C'è un pericolo, una minaccia fascista in questo momento? Allora, io devo dire sinceramente non ho paura dei fascisti. Vengono da una famiglia di persone che hanno combattuto il fascismo con il fucile in mano, da una famiglia di partigiani. Ma non è tornato adesso il pericolo. Il pericolo c'è da sempre, perché i fascisti dall'Italia non se ne sono andati mai. e devo dire che si vedono anche nel governo, si vedono anche da un governo che è ispirato al vecchio MSI e da cui anche Storace proviene. E se non sono fascisti, sono protofascisti, sono... Con onore. Cosa? Con onore. Con onore protofascista? Ah beh... Non ho mai sparato a nessuno. Ah, lei è orgogliosa di essere protofascista? Non ho mai sparato a nessuno. Non ho mai sparato a nessuno. Non ho sparato a nessuno. Non ho sparato a nessuno. Mi dispiace per lei, Storace. Mi dispiace per lei. Ma guardi, non mi colpisce da questo punto di vista, devo dire. Quali sarebbero, a tua opinione, le manifestazioni fasciste, gli episodi fascisti, la tendenza fascista che individui nel governo? Beh, diciamo che loro non hanno mai negato di essere fascisti, non hanno mai negato di essere filofascisti. Hanno fatto anche delle riunioni, hanno fatto anche delle cene, ricordiamo anche Salvini, infatti con personaggi di Casa Pound, personaggi di Alleanza Nazionale, perciò direi che questo è un evidente segno, perché ci vanno a braccetto, chiaramente, e se non è fascismo questo. Paolo, se hai un attimo di tempo, ti faccio parlare anche con Riccardo. Lui era alla manifestazione di Firenze, dove abbiamo sentito uccidere un fascista non è reato. Io, dove ero io, ho sentito solamente slogan, che erano in difesa della Costituzione, che ricordo è antifascista. Ho sentito discorsi molto costruttivi e propositivi, al contrario di quello che ha finora fatto il governo, che non ha condannato l'aggressione. Si è parlato di difesa dei valori costituzionali, la nostra Costituzione è antifascista. se Storace oggi può parlare alla televisione, è grazie ai partigiani e al fatto che hanno vinto gli antifascisti. Perché se avessero vinto i fascisti... No, grazie al fatto che qualcuno dei vostri non è riuscito ad ammazzarmi da giovane. Per questo posso stare qui. Perché qualcuno che mi ha sparato non è riuscito ad ammazzarmi. Hai capito? Guardi... Per questo te lo parliamo di oggi, parliamo di Firenze e il corteo di Firenze. Uccidere una persona è un reato? Uccidere una persona è un reato, chiaramente... Uccidere un fascista è un reato? Ma lì si parla di guerra partigiana. La guerra partigiana è una cosa diversa. In guerra, ammazzare altre persone, purtroppo sono le leggi di guerra. Quella è una guerra partigiana. No, no, ma scusa, scusa. Ferma un attimo. Ferma, ferma. No, no, aspetta. Qui si fa un casino che neanche... Mi sembra... Allora, la guerra partigiana è la guerra partigiana che appartiene agli anni della guerra partigiana sulla quale è stata una guerra contro un totalitarismo che ha portato poi alla democrazia, eccetera, eccetera. Quella di oggi non è permissibile che si è chiamata guerra partigiana perché è un'offesa ai partigiani. No? Come? Semplicemente se si parla di slogan è un conto, ma qui non è stato ammazzato nessuno. Firenze è stata una manifestazione perfettamente pacifica. Sì, appunto. Forse ci sono degli slogan... Sì, dico, però non è che... Slogan ci sono di manifestazione. Sì, è una manifestazione dove però erano presenti personaggi e siccome la signorina ha prima parlato di Casa Pound che avrebbe scenato con qualcuno, eccetera, bene, lì dentro a quella vostra manifestazione di venerdì c'era una serie di gruppi di persone che certamente non sono pacifici, che certamente non hanno atteggiamenti democratici e nessuno ha detto nulla su questa roba qua. Sì, dico, a condannare la gestione di Firenze ma con slogan che hanno questa portata se vogliamo violenta non c'è una contraddizione in termini perché la violenza da un lato è condannata e si richiede che venga condannata e invece quando è a parti invertite no. A me sembra che la richiesta di condannare la violenza sorga da entrambe le parti spesso. Qual è il problema però? Che nel momento in cui sorge una sorta di violenza dalla sinistra è la sinistra stessa a condannare chi è stato violento mentre dalla destra mai. Guardiamo per esempio quello che è successo a Firenze. Letteralmente sei ragazzi appartenenti a razione studentesca, alla giovanile di Fratelli d'Italia hanno picchiato un ragazzo davanti a un liceo liceo Michelangelo che si trova tra l'altro in via Cavour nello stesso strada del Consiglio regionale e qual è il punto? Che dei tre, dei sei che hanno picchiato il ragazzo sono appartenenti alla consulta di Firenze un organo di rappresentanza studentesca in cui sono stati votati per i loro ideali neofascisti letteralmente. Inoltre questi personaggi si sono macchiati di tanti altri atti violenti per esempio hanno scritto davanti a una scuola nessun n puntini puntini è italiano oppure hanno richiesto a Pistoia la sua divisione delle classi delle scuole superiori in base alla nazionalità degli studenti e delle studentesse o un altro caso hanno fotografato un collaboratore scolastico hanno fatto girare delle sue foto sui social minacciandolo di violenze. Io sono consapevole di queste cose perché anno scorso ho fatto parte del Parlamento regionale degli studenti e delle studentesse della Toscana in qualità di ormai ex vicepresidente erano già noti questi atti e nessuno ha fatto niente per eliminarli nemmeno loro hanno avuto il coraggio di richiedere di uscire dalla consulta di Firenze Valentina Petrini Valentina Petrini Ma allora io non vorrei che però passassimo al paradosso opposto cioè dal pericolo fascismo al pericolo comunismo perché insomma a sentire Storace sembrava che stessimo quasi su questo orlo e insomma non sono neanche tanto d'accordo sul fatto che non ci sia un'attenzione adeguata al pericolo che arriva dall'estremismo di sinistra insomma io mi ricordo tanto abbiamo da poco letto il rapporto dell'intelligence che ci ha parlato di un riaccendersi del rischio di azioni terroristiche legate alla compagine anarchica e non è stato sottaciuto né non condannato né non sottolineato ma ricordo anche Paolo gli anni delle contestazioni di piazza che tu ricorderai tantissimo tra il 2008 e il 2011 con la crisi economica sono stati anni in cui le contestazioni anche che arrivavano dai movimenti dell'estrema sinistra sono state represse e contestate quindi ecco sinceramente io non vedo una sottovalutazione del problema sul caso specifico dei fatti di Firenze la mia considerazione è che questo dibattito sia stato forse involontariamente forse no sarebbe interessante scoprirlo un errore politico fatto dal governo Meloni stesso perché le parole secondo me di Mattarella sono precise e perfette contro la violenza l'argine e la dica più forte sono le azioni e le parole delle autorità pubbliche penso che il silenzio iniziale abbia lasciato probabilmente trasparire dell'imbarazzo e che quando il ministro Valditara ha fatto la sua ennesima uscita infelice nei confronti del corpo docenti abbia acceso uno scontro politico che forse non si è reso conto ma ha compattato la sinistra e gli ha dato l'occasione di ritrovarsi De Manzoni poi sentiamo una persona e poi Lichieri prego ma intanto appunto bisogna partire dai fatti i fatti di Firenze sono stati raccontati in un certo modo non si sono svolti in quel modo ma noi li abbiamo noi la stampa italiana ma in che senso non si sono svolti in quel modo i fatti di Firenze sono una rissa tra studenti come ne succedono tante iniziata da studenti di sinistra e stavolta gli è andata male però c'è un'indagine della Digos che non si è ancora conclusa ma è giusto che ci sia ma è giusto che ci sia una risultanza finale ma è giusto che ci sia così come a Bologna c'è stata un'indagine sull'aggressione di cui parlava prima la polizia fa il suo lavoro gli magistrati fanno il loro lavoro il problema è la rappresentazione in Italia quello che succede da una parte viene raccontato in un modo quello che succede dall'altra viene raccontato in tutt'altro modo o non viene proprio raccontato e su questo non ci piove cioè davvero non c'è paragone dei fatti di Bologna non avevamo saputo niente e nessuno perché sui giornali italiani e sulle televisioni italiane i fatti di Bologna non ci sono andati era la stessa gravità forse addirittura di più ma mettiamone sullo stesso piano l'identica gravità il problema è che in questo momento c'è un governo di destra e io mi aspettavo esattamente quello che sta succedendo comincio ad essere un po' preoccupato perché è successo tutto molto in fretta appena insediato siamo a gridare il fascismo e sono preoccupato soprattutto perché quello che si è sentito in quel corteo e le parole poi dette anche a freddo anche da gente matura che abbiamo sentito fanno venire un po' i brividi cioè davvero si riportano a una stagione che speravamo passata gli non è stato detto solo uccidere un fascista non è un reato è stato detto proprio che bisognava fare un fronte armato antifascista l'hanno detto e questo è esattamente quello che abbiamo già attraversato e che sarebbe meglio non attraversare io invito noi giornalisti noi giornalisti per primi a ragionare un attimino di più e pesare un po' di più le parole che stiamo chiedendo proviamo a incanalare questo dibattito in una maniera corretta e poi dopo così possiamo anche arrivare a delle conclusioni che sono corrette lasciamo stare tutto quello che è una ricostruzione degli eventi che sarà compito della magistratura a stabilire qui i punti sono due nessuno teme che Giorgia Meloni possa salire al balcone di piazza Venezia sì quella ragazza lo teme nessuno teme che i balilla ritornino sulle strade o che vengano sciolti i partiti politici qui il punto è un altro qui il punto è un altro e qui non c'entrano nulla una volta tanto i giornalisti o gli osservatori politici c'è una preside che ha scritto una lettera qualcuno tra cui anche il sottoscritto la giudica bellissima ma ha scritto una lettera e in questa lettera non diceva altro che ragazzi scuotiamoci dall'indifferenza nei confronti di qualunque forma di violenza e ricordiamoci che tra le concause che hanno dato origine al ventennio fascista Gramsci il mio conterraneo Gramsci ricorda che una delle concause è stata proprio l'indifferenza verso la violenza ora lei ha scritto il fascismo ma la lettera la possiamo leggere certo il fascismo è nato così dobbiamo mobilitarsi come questa lettera esortava un qualcosa di nobile di bellissimo e riferiva un fatto che gli studenti leggono nei libri di storia cioè il ventennio fascista è possibile che un ministro possa rispondere a questa preside e concludere minacciando dei provvedimenti disciplinari sì o no sì perché questa preside non ha detto quello che ha detto le cedere sono dei ragazzi eccetera eccetera è possibile che una preside che scriva quella lettera esortando gli studenti a combattere se avesse scritto quella lettera avrebbe ragione lei ma non ha scritto quella lettera ha scritto il fascismo è nato così siamo di nuovo in questa situazione bisogna che ci mobilizziamo no no questo è il senso di quella lettera no no leggetela bene quella lettera lei l'ha letta con degli occhiali di parte no no si sforzi di leggere quella lettera con una visione obiettiva e quella era una lettera che doveva essere sposata dal governo perché ha ragione storace quando dice che la violenza politica deve essere condannata sia a destra che a sinistra spaglia storace quando però dice che i fatti di Firenze è tutto sommato era una rissa e allora dottor storace le chiedo che le chiedo ma e allora che cos'è quando ci sono delle violenze di sinistra sono risse sono cose tra ragazzi questioni di donne o di soldi e quando sono quelle di destra invece devono essere stigmatizzate vuole risposta no io direi semplicemente questo un presidente del consiglio quando ci sono fatti di violenza dietro i quali ci potrebbe essere uno sfondo politico deve intervenire deve condannare deve stigmatizzare cosa che non ha fatto allora storace allora dunque a parte il fatto che la questione della rissa e l'ho detto anche la collega Petrini poco fa è oggetto di indagini della magistratura quando mi sono riferito a quella di Bologna le indagini sono già state e siamo arrivati alla conclusione delle indagini quindi sono due cose diverse e anch'io mi auguro che non ci sia spazio per ulteriori violenze perché ne abbiamo passate tante negli anni scorsi ahimè nei decenni scorsi potrei dire io quello che contesto è un clima per cui se per strada si azzuffano dei ragazzi e si fanno anche male deve intervenire la presidenza del consiglio e poi gli risponderà il capo dell'opposizione e poi la difenderà il capogruppo di maggioranza e gli attaccherà il capogruppo dell'opposizione l'Italia dovrebbe avere ben altri problemi su cui impegnare la politica non su una scazzottata in una strada di Firenze che è grave ma non è la prima questione dell'Italia ci si è mobilitata una piazza una manifestazione ma dove vogliamo arrivare quando Valvitare ha criticato quella preside ha espresso esattamente la propria libertà di pensiero come quella della compagna ragazzate che a Lighei non sfuggirà e quella la signora ha partecipato alle primarie del PD si è candidata ci vedo un po' di pari sono così delle cose traubbricate sono delle ragazzate Giorgio sulle esetosi tre ragazzi da Roma azione studentesca della destra fanno militanza politica Andrea si è trovato accerchiato addirittura da cento militanti di sinistra ma i toni quali erano i toni sono non solo quelli che abbiamo sentito da Bologna perché forse i loro compagni di Roma li conoscono anche noi li conosciamo molto bene perché negli ultimi anni soprattutto da quando il partito è cresciuto hanno iniziato a pensare che noi siccome portavamo avanti idee che poi venivano seguite non dovevamo avere diritto di parlare come esattamente un anno fa davanti al ministero dell'istruzione a una nostra manifestazione autorizzata quando siamo stati accerchiati da cento persone dei collettivi e dei centri sociali che ci hanno lanciato bombe carta che hanno intonato cori con il nome e il cognome mio e di nostri militanti chiedendo la nostra morte quindi vorrei sapere se intanto i rappresentanti dei giovani comunisti pensano che questo sia il modo di relazionarsi con chi è di destra chi è di destra ed è giovane nelle scuole sentiamo la risposta prego buoni 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 con l'applaudio buoni ho poco tempo ma se lei ha ricevuto un minaccio di questo genere perché non ha denunciato? e chi avrei dovuto denunciare? ecco pensate che non ci fosse la polizia lì ma io più che la polizia che so che c'era mi chiedo dove erano i giornalisti dove era il ministro dell'istruzione che era esattamente in quel palazzo quindi sapeva quello che stava accadendo tutto quello che c'è oggi per una esagerazione di reazione forse presunta da alcuni nostri ragazzi dove erano i media dove erano i ministri dove era il governo quando eravamo noi a subire la violenza a essere accerchiati nelle scuole e a essere costretti a rispondere dove era tutto questo quando succedevano ai giovani di destra? l'odio politico non è di fatto qualcosa di squadrista visto che è un'espressione che è stata utilizzata molto in queste settimane ma io vorrei innanzitutto vedere se poi questi fatti sono realmente accaduti perché vorrei vedere visto che non si è presentato nessuno non ci sono state le camere non avete fatto video non avete ripreso niente di quello che gli stava accadendo perché io vengo a sapere adesso alla Repubblica non è interessato alla Repubblica tutta la stampa di sinistra i nostri video che sono pubblici e che abbiamo inviato non sono interessati perché la violenza della sinistra non interessa ai media di massa devo andare devo andare non è tutta del buon fascio mi piace però io vengo a saperne adesso di questa cosa va bene va bene va bene allora grazie agli ospiti andiamo in pubblicità e ci vediamo tra poco